Un incendio divampato nella macchinata di venerdì 20 agosto, poco dopo le 10, a Bairo, in località Roncheise. Una grossa catasta di legno è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono prontamente intervenuti i diversi mezzi dei Vigili del Fuoco di Vrea, Amati e San Maurizio Canavese. Impegnative le operazioni di spegnimento del rogo. Il Vigili del Fuoco ha innanzitutto circoscritto e domato le fiamme per evitare che si propagassero raggiungendo la cascina e la stalla nonché i campi vicini. Il Vigili del Fuoco ha innanzitutto circoscritto e il Vigili del Fuoco.